Intervento delle forze proposte ieri in località Grassaga a San Donà di Piave per l'incendio all'interno di un capannone di trattamento rifiuti che si occupa della bonifica di contenitori plastici, metallici e compositi. Nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme hanno riguardato il materiale in trattamento con i prodotti della combustione che hanno invaso la totalità della struttura. I vigili del fuoco arrivati da San Donà, Motta di Livenza e Mestre con tre autopompe, tre autobotti e 19 operatori hanno spento le fiamme dei contenitori che hanno provocato una notevole produzione di fumi. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei tecnici. La struttura è stata interdetta fino al ripristino degli impianti e delle condizioni di salubrità.